Lunedì 15 gennaio parte un ciclo di incontri sui temi inerenti alla promozione della salute nell'anziano dal titolo Invecchiare in salute si può che si svolgeranno presso il salotto dell'anziano di Casale Corte Cerro in frazione ramate a cura della geriatria dell'asla del VCO diretta dalla dottoressa Loredana Seccia. L'iniziativa alla quale partecipano l'Associazione per la promozione degli anziani di Casale Corte Cerro e l'Associazione Prosene Ctute si inserisce nelle attività del progetto Terzo Tempo, la cura è di casa, sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del VCO. Gli incontri saranno sempre alle ore 15. Si parte lunedì prossimo parlando di salute. Il 19 febbraio riflettò ripuntati sull'importanza di mantenere sane le ossa, il 18 marzo sulla necessità di tenere allenata la mente. Tema dell'incontro del 15 aprile sarà il farmaco istruzioni per l'uso, epilogo lunedì 20 maggio con Quando la salute non c'è più, voci di speranza da una RSA. Tutti gli incontri sono a ingresso libero.